il programma è offerto da problemi di acne ide è la soluzione per te ide la pelle siamo noi www.ide.it ben ritrovati gentili amici telespettatori a questo nuovo appuntamento con zona juventus la trasmissione dedicata ai colori bianconeri settimana scorsa nel 25 aprile non ci siamo visti è stato però il giorno dello scudetto juventino il 34esimo anche se sull'albodoro ufficiale della lega della figc sono 32 però diciamo che gli uvetini ne considerano 34 in totale è arrivato questo scudetto addirittura con tre giornate d'anticipo davvero incredibile se pensiamo alla partenza della juve ad inizio stagione nelle prime dieci giornate aveva collezionato quattro sconfitte bene quelle quattro sconfitte sono rimaste quattro anche al termine della stagione o comunque a due turni dalla fine davvero numeri da capogiro 25 vittorie 26 gare compresa anche l'ultima il 2 a 0 al carpi perché la juventus non lascia nulla e attenzione la stagione non è finita perché ci sarà la finale di coppa italia il 21 maggio contro il milan per parlare di questo e di tanto altro comunque sempre che riguarderà la juventus sempre che riguarda i colori della vecchia signora c'è amos ancellotti ben ritrovato amos ciao amici sono qua felici più che mai sei non contento di più perché tu l'avevi detto poi andremo a scoprirlo insieme perché più volte anche ad inizio stagione avevi sottolineato la forza di questa squadra però diciamoci la verità queste vittorie 25 26 gare non te le aspettavi proprio sono troppe questo marco devo dire che è una pura verità però se ben ricordo nelle nostre puntate io dissi sempre che sicuramente la juve non poteva occupare una posizione di classifica così brutta insomma la juve non poteva permettersi un'altra debacle come quella di gigi maifredi beh con rispetto di gigi che ha avuto anche lui una grossa soddisfazione allenando la juventus io sostenni ti ricordi che sicuramente nelle prime tre saremmo arrivati poi è arrivato questo boom incredibile così devo dire ormai ho detto tutto scusate un po di raucidine quello che dovevo dire l'ho detto devo aggiungere che probabilmente una stagione così penso che non sia ripetitiva perché ripetere una cosa del genere sarebbe quasi una cosa da astronauti da alieni una cosa però devo aggiungere una cosa in più al di là dei record che i record si fanno bene c'è un piccolo record che la famiglia Agnelli custodisce con l'evento del giovane Agnelli ha un record suo personale perché in sei anni di presidenza e lui si è portato a casa dieci trofei e non sono pochi nessun presidente di società in sei anni di gestione poteva vincere sei trofei Agnelli diciamo che in quali interessi tirano fuori il famoso triplente Morate si ma ho capito lasciamo stare non parliamo tanto dell'Inter concentriamoci sulla Juventus cinque vittorie consecutive dello scudetto come non capitava dagli anni trenta questa squadra è entrata di diritto nella storia del calcio italiano del club della Juventus perché davvero ha riscritto una pagina importante della storia questo finalmente l'hanno riconosciuto tutti però ci hanno messo tanto eh Amos ci è voluto perché un po' di polemica c'è ancora con gli aiutini non aiutini beh il distacco con il Napoli e con la Roma mi sembra poi dopo evidenziamo bilanciamo questi aiutini perché io non sono la verginella che dico la Juve non ha avuto aiutini qualche aiutino è venuto fuori ma non solo per la Juventus allora se vogliamo essere obiettivi comunque io ho dissi anche che con distacco la Juve avrebbe vinto questo ragazzi sono 12 punti per non dire 15 perché probabilmente è questa sera se il Napoli vince andiamo a 15 se il Napoli non vince perde se non vince ho detto andremo a 15 punti e non sono pochi però tutto sommato 12 è già un bel distacco e poi al di là dei 12 punti è la cosa impressionante è che questa Juventus in ogni partita ha cercato di portare a casa il risultato o bene o male soprattutto secondo me è sempre bene e senza come voglio dire senza nervosismo senza l'orgasmo di voglio vincere questa partita l'ha dimostrato anche ieri nella partita contro il Carpi è stata una partita normalissima la Juventus non ha forzato il Carpi ha il Carpi ha dato tutto perché comunque ha l'obiettivo della salvezza ancora da rincorrere sì esatto ma al di là di questo quello che ha stupito è stata comunque la cattiveria della Juventus sottoporta negli ultimi 20 metri ma anche in difesa comunque nonostante non avesse giocato una grandissima partita la squadra di Max Allegri era comunque riuscita a gestire molto bene la pratica del Carpi e a punire al momento giusto di conseguenza va un alto applauso a tutto lo staff che è riuscito a tenere sulle corde davvero una squadra che poteva non dico mollare però un attimo rilassarsi giustamente dopo aver fatto una calvalcata del genere ora ci saranno ancora due gare poi la gara contro il Milan che direi è di fondamentale importanza visto che ci si gioca un altro trofeo quello della Coppa Italia poi ci sarà la Supercoppa Italiana sempre contro il Milan perciò un avversario è vero che non se la sta passando bene ma sempre di blasone ed è sempre il Milan ed è una finale poi si trasformano in quelle partite lì questo è vero esatto beh ma al di là di quello con la partita contro il Carpi il Carpi però tutto sommato dobbiamo anche ha avuto rispetto la Juve del Carpi non è che l'ha snobbato perché è stato un momento in cui il Carpi ha fatto veramente qualcosa di buono e magari meritava anche il gol non è venuto perché è il grande Buffon insomma Buffon ormai è diventato l'artefice anche lui di questa grande galoppata della Juventus una cosa che mi ha fatto un po' sorridere ieri è stata la i cartellini gialli quattro diffidati che tutti e quattro si sono fatti a munire no Juve aveva cinque diffidati e quattro salteranno la gara contro l'ultimo e diciamo che sono state volute queste quattro cartellini gialli perché anche Hernanes che ieri sono stato soddisfatto finalmente ho visto Hernanes fare un bel gol un giocatore che non è molto amato dai tifosi bianconeri ma che io rispetto per la sua storia calcistica perché poi tutto sommato anche lui porta la maglia bianconera e in effetti ho pensato subito ad Amos Ancellotti quando ha segnato Hernanes perché tu contro tutto e contro tutti lo hai sempre comunque difeso è arrivata anche la sua soddisfazione quella di segnalo gol con la maglia della Juventus tra poco tra l'altro lo andremo a sentire la capriola che ha fatto e la gioia anche sua personale dice finalmente spero che qualche Juventino in più mi amerà in futuro ma io lo rispetto non peraltro per la sua carriera calcistica in fin di conti è stato un bel giocatore nell'Inter era un grande campione a livello internazionale e ha portato la Juve in un momento magari molto discutibile diciamo che inizialmente come tutta la squadra anche lui ha faticato esatto però vedi anche lui ha cercato sempre di inserirsi nel gruppo ma io sono convinto che i ragazzi l'hanno aiutato sicuramente ieri poi sono corsi ad abbracciarlo però purtroppo nel nostro entourage di molti Juventini non è entrato nelle loro simpatie e questo mi dispiace perché non è giusto ha fatto un gol per noi ha aperto la porta alla vittoria di ieri contro il Carpi ma perché non dobbiamo dire che è un giocatore che la Juventus si merita di avere le proprie file Amos, ora andiamo ad ascoltare Max Allegri e tra poco daremo anche i voti, le pagelle ai nostri giocatori e anche al tecnico bianconero che forse è stato davvero riconosciuto per la prima volta in pubblico da tutta la tifoseria Juventina Allegri Dazio è un giocatore importante è il primo anno che è alla Juventus ha fatto molto bene è il risultato determinante soprattutto nella sfida a Scudetto con Napoli facendo gol ha fatto dei gol importanti un giocatore che potrà diventare e titolare la Juventus Buongiorno, io volevo sapere se in questi due giorni di riposo preferisci tornare a Livorno o fai una toccata e fuga in corso per il Leo Ferraris per un autografo Questo nei primi due giorni della settimana? No, magari faremo a metà settimana L'obiettivo deve essere quello di migliorarsi tutti i giorni ora questa partita è stata difficile perché poi abbiamo trovato un buon Carpi e soprattutto perché noi venivamo una settimana dove abbiamo ripreso giovedì dove c'erano festeggiamenti dove sicuramente abbiamo allentato un po' la tensione fortunatamente i ragazzi sono stati bravi a portarla in fondo a vincere la partita senza subire gol però bisogna, dal mercoledì quando riprenderemo bisogna essere bravi a rimettere la testa lì perché dobbiamo fare una vittoria a Verona finire bene il campionato in casa per essere pronti per la finale Non so solo che ringraziarli ma da parte mia c'è sempre stato rispetto e stima ho sempre sentito il rispetto e la stima da parte di loro dopo la contestazione iniziale dell'anno scorso ma credo che quella fosse un momento un po' particolare io credo che dopo alla fine le persone si devono valutare per il lavoro che fanno e la professionalità e la serietà che uno ha e che mette a disposizione poi ci vuole anche un po' di fortuna nel vincere le cose Siamo tornati nel studio ricordiamo immediatamente la mail dove potete scriverci zonajuve1897.gmail.com tra l'altro ringrazio Cristian Davide che la settimana scorsa ci hanno scritto più altre persone per comunque salutarci per omaggiare soprattutto la Juventus di questi 5 scudetti consecutivi continuate a scriverci e poi noi risponderemo Amos, abbiamo promesso di dare qualche voto iniziamo da Gianluigi Buffon cioè da un pezzo grosso sicuramente è stato l'uomo un artefice di questa decisivo beh a lui darei che voto? che voto diamo? che voto diamo? darei un 10 più addirittura? sì perché nonostante lui sa di essere un grande è anche umile nelle sue dichiarazioni sono dichiarazioni sincere e non tira mai in ballo il nemico cioè nel nemico a livello sportivo a rispetto di qualunque avversario anzi diciamo che alle volte lo esalta anche l'avversario e quindi 10 più la difesa anche se vabbè ci sarebbero Netto e Rubinio però diciamo che lo spazio per loro è stato davvero poco pochissimo esigua ecco difesa andiamo da un pupillo di Amos no? come Rugani che per la seconda volta è stata ammunita in questa stagione contro il Carpi Rugani che voto diamo a Rugani? ma gli darei un 7 dai volevo dire 6 e mezzo ma diamogli un 7 perché Barzagli beh Barzagli gli do un bel 9 perché nonostante l'età e nonostante alcuni acciacchi che comincia ad avere e lo capisco ma la sua gloria la sua grande classe gli do un bel 9 Bonucci anche lui un bel 9 un 9 più 9 più per Bonucci Chiellini Chiellini quest'anno è stato sfortunato molto sfortunato però l'impegno ce l'ha messo è stato uno che ha dato tanti consigli a Rugani e quindi gli do 8 più anche a lui 8 più va bene Evra Evra un 7 più perché pesa quell'errore di Monaco di Baviera di là di quello non è stato continuo come lo scorso campionato però un 8 7 più 8 lo merita 7 più facciamo 7 più 7 più sicuramente difficilmente sostituibile quindi questo 8 più che potrebbe essere anche un 9 comunque 8 più Centrocampo vorrei andare dal polpo pol Pogba Pogba quest'anno mi sta inizialmente ha fatto tribulare un po' tutti noi che l'abbiamo criticato l'abbiamo criticato io l'ho anche difeso perché lo considero ancora mentalmente un ragazzo vivace però con una mentalità che comincia a capire che lui sa di essere una forza che potrà progredire e dare tante soddisfazioni al mondo del calcio non dico solo la Juve ma il mondo del calcio quindi per il suo carattere gli darei un 7 perché deve migliorare molto per la sua classe gli do un 8 in totale cosa gli diamo? e per la sua volontà di voler emergere gli do 8 e mezzo 8 e mezzo voto finale? esatto che dirà al volo? che dirà 7 non più di 7 perché nonostante è bravissimo ha fatto delle belle cose non è mai stato impiegato ufficialmente sempre insomma anche lui ha avuto però un 7 lo merita come Marchesio? come Marchesio anche lui come Chiellini è sfortunato però visto la classe di Marchesio a Marchesio darei un 7 più diciamo Hernanes Hernanes ultimamente mi ha mi ha commosso perché addirittura ma nel senso umano perché io vedevo il suo viso quando guardavo le partite la sua voglia di far bene cercare di produrre gioco per la squadra aiutato dai ragazzi e quindi si è dimostrato di voler figurare bene la Juventus quindi un bel 7 glielo do volentieri perché al di là del gol che ha fatto ieri un 7 se lo merita su Hernanes ci fermiamo un attimo lo andiamo proprio a ascoltare al termine di Juventus Scarpi poi torniamo qua e continuiamo a dare i voti Hernanes eh sì senza altro io mi ponevo questo obiettivo che non potevo finire la stagione senza andare in rete anche se come sottolineo questo che giocando da come ho giocato questa stagione da mediano non è la parte più importante di segnare o no però come ce l'ho sempre il tiro ci ho provato sempre era più che giusto che arrivasse il momento della prima capriola quindi è arrivato oggi eh sono contento per la vittoria anche perché non subendo gol e quello è anche un altro punto importante quindi eh molto contento la prima parte di adattamento eh fino a dicembre eh diciamo dovevo trovare eh sono trovato un ambiente nuovo pensando io che eh le cose sarebbe più più semplici per quanto riguarda l'adattamento l'ambientamento però non è stato così eh dovuto prendere un po' di misure e poi da gennaio in poi penso che sono soddisfatto perché le volte che sono sceso in campo potete dare un contributo e quindi sono contento anche di dimostrare il mio valore siamo rientrati nel studio continuiamo con i nostri voti però ve lo cimentiamo perché sta scorrendo il tempo eh Sturaro e Padoin beh Sturaro gli do un 6 e mezzo perché ha giocato molto poco però quelle poche volte che si è inserito addirittura è andato anche lui in gol quindi un bel 6 e mezzo Padoin Padoin anche lui un bel 6 e mezzo Lemina che tra l'altro è stato acquistato ufficialmente dalla Juventus sì questo l'ho saputo Lemina è il futuro della Juventus ma anche lui quest'anno non è che ha avuto molto per mettersi in mostra vediamo un 6 e mezzo 7 anche perché la classe ce l'ha vogliamo in attacco vediamo l'attacco quello da Paolo Di Bala Paolo Di Bala a 9 ti ha fatto innamorare 9 e le do 10 perché deve ancora crescere deve ancora crescere però la sua umiltà già lo proietta nel grande calcio a livello internazionale Zaza Zaza è un po' il mio pallino perché io di quel ragazzo ho avuto sempre fiducia anche se è un po' troppo estroso è troppo pazzo però anche lui giovane insomma deve maturare a livello caratteriale perché non si può sempre essere così irruenti e questo non fa bene però un belotto lo merita anche perché è quello che ogni 100 minuti è riuscito a fare un gol è vero quando entra segna pur non giocando quasi mai adesso un centrocampista attaccante quadrado beh lui forse non tanti se lo ricordano ma nei momenti decisivi è stato decisivo vedi il derby con il Torino lo stavo dicendo io quadrado è stato quello che ha dato pronti via a questa ascesa incredibile dalla Juventus contro quel gol al novantesimo e rotti contro il Torino beh lì si è acceso la fiammella in tutta la squadra e beh quadrado merita nove quadrado merita nove insomma poi poi ha fatto anche dei gol veramente incredibili insomma Mario Mandzukic al volo Mandzukic un bel otto e mezzo anche a lui sotto il sei non c'è nessuno Morata Morata merita un otto anche lui anche se non è il grande Morata dello scorso campionato ma la volontà la voglia di far bene ce l'ha sempre messa tutta tra l'altro su Morata ti chiedo anticipiamo un po' il prossimo argomento il mercato rischia di partire tu lo venderesti o meglio non è tanto decisione della Juve in effetti tu almeno proveresti a tenerlo ecco giriamo la domanda io sì io proverei perché ha ancora molto da dire Morata anche per l'età non è una vecchia volpe ancora uno che deve maturare tantissimo nonostante ha fatto molti progressi però ha bisogno ancora di essere impiegato e di convincersi che può migliorare sempre di più Asamoah Licksteiner e Pereira Asamoah quest'anno ha avuto pochissimo tempo per i suoi problemi fisici è entrato ha fatto bene ha fatto mediocremente alcune partite è l'unico forse che merita il 6 e mezzo ma non perché perché non ha avuto la possibilità di farsi capire che sta riprendendo ritornare la Samoa che eravamo abituati io gli auguro ritornare la Samoa che eravamo abituati ad avere perché abbiamo bisogno di calciatori come lui però un 6 e mezzo se lo merita Licksteiner Licksteiner si merita anche lui un 7 e mezzo mentre Pereira Pereira ecco anche lui 6 e mezzo sì perché anche lui quest'anno è stato impiegato molto poco ha avuto dei problemi c'è di bella una cosa però su questi ragazzi che hanno avuto problemi che Allegri non li ha mai messi in discussione gli ha sempre dato fiducia gli ha fatti riprendere poco alla volta però non sono riusciti ad entrare nel vivo di questo campionato però un 6 e mezzo se lo merita anche Pereira infine il condottiero Max Allegri tra l'altro non so se hai visto lo striscione dei tifosi juventini che hanno reso omaggio un giusto tributo a Max Allegri per questi due anni è entrato definitivamente nel cuore voto? Max Allegri come Buffon 10 più è stato davvero uno degli artefici adesso vogliamo fare anche un piccolo regalo e alla società cosa gli diamo? è vero è vero la società cosa gli diamo? grande Amos che mi ricordano Marotta Agnelli tutti quelli che hanno lavorato Parati gli diamo un bel 10 perché sono stati bravi hanno messo assieme un gruppo meraviglioso fantastico e mi auguro che adesso il prossimo anno questo ve lo dico via dito se non andiamo in finale in Coppa Campioni mi dispiace dirlo ma sarebbe un fallimento una minaccia non dico di vincere la Coppa ma almeno arrivare in finale beh hai chiesto poco insomma non è proprio vuol dire aver raggiunto l'obiettivo di essere tra le prime squadre in Europa speriamo auguriamocelo Amos adesso la nostra redazione ha fatto un piccolo regalo ad Amos perché lui che ci crediate o meno ha sempre sostenuto i colori bianconeri dall'inizio e allora cosa ha fatto la nostra redazione i nostri giornalisti sono andati a pescare le prime puntate in cui tu difendevi la Juventus e hai avuto pienamente ragione su tantissime cose addirittura avevi annunciato uno scudetto vinto con anticipo e quello è accaduto allora andiamo a vedere una piccola pillola diamo sancelotti all'inizio della stagione quando le cose andavano tutte male andiamo a vederlo sì sì per me ci sono nonostante due partite non giocate benissimo con Lazio e Udinese ma guarda proprio con la Lazio ho segnato i due nuovi no? Mazzucchi c'è di base esatto questa è una dimostrazione che probabilmente questi due si dovranno inserire in un modo molto incisivo e qui dovrà lavorare moltissimo Allegri se poi arrivano quei nomi che sono nomi che danno garanzia beh allora allora cominceremo però non drammatizziamo vediamo qual è stata la prima giornata del campionato stiamo con i piedi per terra comunque io dissi che avevo fiducia in Allegri perché sapevo che aveva molti infortuni e poi aveva dei giovani da preparare aveva la quadra da trovare è riuscito a trovare la quadra per il momento sta dando degli ottimi risultati perché sette vittorie non sono venute a caso e non sono poche è stato un percorso molto difficile fare quello che ha fatto Allegri e io riesco a capire qual è l'emozione adesso di Allegri che promese verso Natale vedremo faremo i conti i conti li stiamo facendo abbiamo fatto un recupero eccezionale io devo dire che non posso dire che Allegri non era in grado di fare quello che ha fatto l'ho sempre sostenuto perché capivo che lui c'era qualcosa che avrebbe dato i suoi frutti eccoci di nuovo insieme complimenti ad Amos allora che ha avuto ragione da inizio stagione lui ti è piaciuto il regalo che ha fatto nella relazione mi ha emozionato un po' si sente si sente sono contento perché non solo anche qui anche nelle trasmissioni che vengo a fare in questi studi anche ieri nella trasmissione di Rabona qualcuno ha il coraggio di dire Amos quest'anno ci ha azzeccato tutto quindi diamo merito a lui perché o mago si mago no però la realtà è questa tant'è vero che un tifoso napoletano che era ospite dalla trasmissione e noi andiamo a cercare il pelo nell'uovo la Juventus quest'anno favori sì favori no non abbiamo nulla da dire è una squadra che ha dimostrato quali sono le qualità e la volontà di una società quando vuole far bene quindi Amos quello che ha detto se lo sentiva magari se lo sentiva perché avrà visto anche le altre squadre come giocavano e infatti il mio il mio sentire all'interno era proprio vedere che le altre squadre arrancavano nonostante erano in alto la classifica non vedevo la cioè quel gioco fluido e bello che stava incoronando la Juventus partita dopo partita e sentivo dentro di me questo cambiamento a livello generale per quanto ricordavo la classifica si è avverato tutto sono convinto che se l'anno prossimo la Juve si ripeterà beh mi da un po' anche la noia amici eh vabbè iniziamo a fare ripetere la Juventus a vincere un altro scudetto comunque avremo ancora quasi un mese davanti di trasmissioni con Zona Juve dove c'è ancora da inseguire l'obiettivo Coppa Italia e avremo modo anche di parlare di mercato perché alla fine oggi tra una cosa e un'altra non abbiamo più avuto tempo di commentare le vicende di mercato ma c'è tempo c'è spazio per questo argomento grazie mille Adamo Soncelotti grazie ancora per essere stato grazie a voi amici e grazie ai miei collaboratori che mi hanno fatto questa grossa sorpresa e che accetto con con il cuore ciao con emozione grazie mille allora a tutti voi per averci seguito ci ritroviamo settimana prossima con Zona Juve un saluto il programma è stato offerto da stufo dei peli superflui ide è la soluzione per te ide la pelle siamo noi www.ide.it